Buongiorno a tutti ragazzi, io sono mamma Claudia, benvenuti in un nuovo video sul canale dei Cavaleri Family Prima di continuare a guardare questo nuovo e super estivissimo video della famiglia più pazza del web Ricordatevi di iscrivervi al canale Cavaleri Family, cliccate sulla campanella Ricordatevi anche di seguirci sui nostri social, Instagram e TikTok Mi raccomando, non perdete anche il nostro secondo canale Cavaleri Sisters, il canale di Aurora e Noemi Ragazzi, il video di oggi, come vi ho già anticipato, sarà qualcosa di super mega estivo Perché? Perché finalmente sta arrivando l'estate O meglio, qui da noi già è arrivata, fa veramente tanto caldo E quindi oggi daremo il via a una carrellata infinita di video estivi in piscina Evviva, non vedevamo l'ora di tuffarci nell'acqua bella fresca e fare un sacco di nuotate e di video fantastici Le bimbe sono veramente cariche e non vedono l'ora di andare in piscina Penso che si siano anche già messe il costume Sono pronte da un sacco di tempo Andiamo di là, vediamo che cosa stanno facendo Ah, eccole qui le mie super bimbe Già accostumate e pronte Cosa stai facendo con questo piedone in faccia ad Aurora? Auri, siete pronte per andare in piscina? Sì E allora vediamo il vostro super mega outfit e costume Aurora oggi ha scelto un costume super mega fucsia Pirouetta, giro, 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 è stupendo Yeah Aspettami Cosa stai facendo? Un balletto Stai improvvisando Yeah Ah, vabbè questa è una roba che abbiamo fatto con Sofia Campana, eh Ti ricordi? E giro, giro, giro L'hai imparata L'hai imparata Vediamo ora il costume di Noemi E Noemi già è a tema Sirenetta Guardate che bello è questo costumino Tutto rosa Lucicodoro Questa è una pirouetta Eh, spaccata No, vabbè, veramente? Ma Emi, scusami, ma le sirene fanno le spaccate? No, però oggi ho portato la sirenetta E non svegliamo tutto subito Dovete prendere il vostro copricostume Mica possiamo andare così in piscina Forza, 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 la ricerca di un copricostume Alla ricerca di un copricostume Senza crollare Alla ricerca di un copricostume Di un copricostume Tu metterai un copricostume super rosa Hai ragione, così rimani in tinta E tu Emi che cosa ti vuoi mettere? E questo è il copricostume di Noemi Aurora lo ha già quasi indossato È prontissima Oggi sei veramente perfetta Il tuo outfit È tutto molto, molto pink Guardate Auri che cosa ha in mano Mostralo in tutta la sua grandezza Perché è enorme È una super mega Non è ciambella Brava, è una super mega ciambella Guardate com'è gigante Possiamo fare un sacco di tuffi All'interno della ciambella Sì Vero, che bello Emi Fai vedere il tuo copricostume Mi fa provare tutto Yeah Con i fiorellini Anche tu ti stai infilando dentro la ciambella? Aspetta, ma è sgonfia Ma è più grande di te Mmm, com'è buona Vero? Ma non è una ciambella da mangiare Andiamo a preparare il borsone Veloci Ragazzi Mi raccomando Scrivete giù nei commenti Se vi piace di più Il costume di Aurora Oppure il costume di Noemi Fatecelo sapere Perché qui la scelta è molto molto difficile Hai proprio ragione, Auri Che cosa dobbiamo portare nel borsone della piscina? Un ricambio Quindi mutande, vestiti È quello che ci occorre Shampoo Quindi ricambi per te e per Noemi Da mettere all'interno Perfetto Mamma, andiamo a prendere gli asciugamani Auri, hai ragione Ricambi Che è fondamentale Shampoo e balsamo per lavarci dopo E toglierci il cloro Ma senza gli asciugamani Come faremo ad asciugarci una volta usciti dall'acqua? Andiamo a prendere gli asciugamani E voi ragazzi Che cosa vi portate in piscina? Scrivete l'elenco completo delle vostre cose Qua giù nei commenti Ecco qui abbiamo preparato tutti gli asciugamani Noemi si è presa l'asciugamano dei Cavaleri Family Dopo ve lo facciamo vedere assolutamente aperto Super coloratissimo Aurora ha portato anche altri giochi Che cosa sono questi cerchi? Ci sono dei numerini All'interno Appena tu li lanci Si prendono Ma i sott'acqua li prendi Ah quindi è un gioco da fare sott'acqua questo Guarda 10 Ok 20 Ok 30 Quindi questi cerchi Possono andare sott'acqua Si appoggeranno sul fondo Giusto Auri? Si appoggeranno sul fondo E poi voi li dovrete andare a prendere sul fondo della piscina E lì ce n'è un'altra forma di pesciolone Credo proprio che abbiamo veramente preso quasi tutto Dunque Asciugamani Asciugamani Ricambi Cose per lavarsi Un sacco di giochi che come ben sapete non possono mancare nella Cavaleri Family Salva gente Qualcuno di voi ha scritto anche braccioli per Noemi? No no ragazzi perché Noemi vi farà vedere come nuota E' una sirenetta Non ha bisogno dei braccioli Ma manca ancora una piccola cosa da portare E ve la svela Noemi Che cosa dobbiamo portare ancora? La coda della sirena La coda della sirena Sì Evviva andatela a prendere Ma quale coda della sirena? Ma quale coda della sirena? Quali braccioli? Papi lo che c'è da portare mamma sono i panini Ecco appunto papi non ti sentivo da un po' Ero quasi preoccupata Poi in effetti bastava andare in cucina E ti avrei trovato qui a mangiare Oh preparare Ho già preso tutto Coca Cola, patatine, toast con la Nutella Tutte cose molto light E voi ragazzi quando andate in piscina, al mare o in montagna Cosa portate da mangiare? Scrivetelo giù nei commenti e fatecelo sapere Mamma è tutto pronto Voi siete pronti? Eh sì ragazzi siete già stati in piscina Oppure al mare? Fatecelo sapere E spolliciate se anche a voi piace un sacco l'estate Ma guardate Aurora e Noemi hanno preso le code delle sirene Ma eccole guardate Stanno arrivando le sirenette Ma siete pronte con le vostre code? Sì guardate qua Eh sì perché quella è la coda che andrà messa Su questa super mega pinna Questa è la mia E questa è quella di Aurora Guardate con la super pinna Guardate i piedi dove sono infilati In questi buchi giganteschi E da qua apriamo 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 Ci sono i piedoni dentro Ci sono i piedoni Perfetto direi che le sirene sono pronte Siamo pronti Non manca altro che andare Che stai facendo? Ma cos'hai in faccia? Ma cosa cosa so mamma? Questa no? La protezione Scusa tu non la metti? Eh ragione papi Ce la stavamo dimenticando Ma di solito andrebbe spalmata Guarda che disastro Ora ti abbronzerai a macchie No sulla lingua Oh mamma mia Ragazzi mi raccomando Non dimenticate la protezione solare Che è importantissima Papi Fermo Corriamo in piscina Corriamo in piscina ragazzi Io non mi abbronzerò sicuramente Andiamo andiamo Ed eccoci arrivati qui in piscina Aurora è pronta Mega cuffia Emi Sei pronta anche tu per entrare? Ma la crema l'abbiamo messa? Operazione crema mamma Siamo arrivati nella nostra mega piscina Con il frato verde Ma non è bella mamma? È bellissimo papi Guardate che bello Ci sono già un sacco di bambini in acqua Guardate Vai Auri Momento crema Bravissima No sotto le ascelle Aurora Stai sbagliando tutto La devi mettere sul naso Guancia 1 Guancia 2 E ci siamo Fatto tutto Bravissima Auri Nel frattempo Noemi è passata già al corpicino Spalmata tutta Brava Emi Crema messa Oddio è freddissima vero Auri È fredda Ok ormai siamo pronti Tranne me che mi devo ancora spogliare Come al solito Sono sempre l'ultima Abbiamo anche i nostri Telomare Guardate che belli telomare Super 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 colorati Aurora e Noemi sono pronte Direi di dirigerci verso la piscina Andiamo Oh è fredda mi sa Auri devi sciacquare Dove stai andando 3 2 1 vai Sciacquata veloce Tocca anche ad Emi Via Emi Passa sotto l'acqua Furbona Non si fa così Dove stai scappando Auri com'è l'acqua scusami L'hai toccata? Ehm Congelata Congelata Eh vabbè La piscina ha aperto oggi Emi com'è l'acqua scusami L'hai sentita col piedino? Oh è fredda Secondo me Qua per tuffarsi Ci vorrà molto molto coraggio Sei pronta? Auri ci fai vedere subito Un bellissimo tuffo Dei tuoi? Oh Nel frattempo Noemi È partita a tradimento Non mi arrendo Io vedo È partita a tradimento Noemi 2 1 Che tuffo Com'è Auri? Ci sono i ghiaccioli Sta svenendo quasi Emi continua a tuffarsi In perterrita In questa piscina Di acqua gelata È un po' fredda Andiamo nella vasca piccola Vieni vieni Corriamo di là Auri scusa Ma questa è la vasca Dei billi piccoli Ma voi ci toccate È troppo piccola Ma cosa ti tuffi Che qua ci tocchi Vediamo un bel tuffo Auri però Di quelli tuoi Braccia tese Via Bella Che eleganza Frattempo che Aurora È dentro l'acqua È appena arrivata Una sua amichetta Ed è qui Ciao Tu chi sei? Stella Lei è la piccola Stella Che fa nuoto Insieme ad Aurora Vero? E ora vedrete Quanti tuffi faranno Nell'acqua E come andranno a fondo Direi di andare Da Aurora Che la sta aspettando Andiamo Stella Andiamo Andiamo Auri che tuffi fate? Testa no Testa è Giù Tuffo E giravolta Va bene Allora Vediamo Stella sei pronta? 3, 2, 1 Via Yeee Che giravolta Anche tu con la giravolta Dai tu il via Dai Via Vediamo Adesso il tuffo Lo digai tu Vediamo Di testa Di testa Sì sì 3, 2, 1 Aspetta Stella Aspetta Sei pronta? Di testa 3, 2, 1 Via Mamma mia Man bravissime Ragazzi Voi giù nei commenti Scrivete Chi è stato più bravo Tra Stella E Aurora No vabbè ragazzi Guardate La mamma Claudia Ha trovato Una sirenetta Ma è possibile? Ha trovato una sirenetta? È tutto vero? No Sono io Papi Ma è la piccola Emi Mamma Papi Ho pescato una sirena Dentro la piscina Ma è no Emi Mamma L'abbiamo capito tutti Guardate La piccola sirena Vai Vediamo Vediamo il tuffo Di una sirena Oh ma così Ti spiaccichi Guardate ragazzi Muovi la coda Emi Sei pronta? Via Brava sirena Allora Noi facciamo bomba Tuffo bomba? Vai Insieme 3, 2, 1 Go Cosa fai? No no Sbattere Ma cosa fai? Guardate ragazzi Adesso si butterà in acqua La sirenetta 3, 2, 1 Vuota fortissimo Oh guardate Ok ragazzi Vediamo chi fa il miglior tuffo E il miglior saluto Siamo pronti? Tocca l'aurora Via Tuffo Vai stella E poi saluto E' stato più bravo Scrivetelo giù nei commenti Mamma Abbiamo visto Il tuffo di tutti Ma qua c'è una sirena Irrequieta Vuoi vedere il tuffo della sirena? Vediamo papi Via 3, 2, 1 Via Papi sembra un pesce che esce dalla boccia Penso che sia il più bel tuffo questo quello di Noemi Mettete tanti mi piace per Noemi Va bene ragazzi direi che per oggi è tutto Speriamo che questo nuovo video vi sia piaciuto Prima di lasciarvi ricordatevi di iscrivervi al canale Cavaleri Family Cliccate sulla campanella e seguiteci anche sui nostri social Instagram e TikTok E non dimenticate di iscrivervi sul nostro secondo canale Cavaleri Sisters Il canale di Aurora e Noemi Le bimbe sono ancora lì a bordo piscina Stanno facendo un sacco di tuffi Chi le fermerà più oggi? Eh mamma, mamma ho preso una sirena Ma perché le hai fatte uscire dall'acqua? Le sirene devono stare dentro l'acqua Adesso è la fase finale del video Quindi devo fare il solletico Le butterò tutti in acqua Vediamo, vediamo Ma ricordate Noi siamo i cavalieri Vai, vai, vai In acqua, in acqua Soletico Tauri Soletico Tauri Soletico Tauri Soletico Tauri Ancora 3, 2, 1 Via 3, 2, 1 Al prossimo video Aspetta, aspetta Dove vai? Clicca qui Per iscriverti al canale Cavaleri Family Clicca qui O qui Per continuare a guardare I video della Cavaleri Family Ci vediamo